per tutti i gamers bentornati ci siamo finalmente è uscito subnautica bilun zero buonasera buonanotte che mezzanotte parlo anche a bassa voce subnautica bilun zero attenzione finalmente mamma mia ci siamo siamo prontessimi carichi subnautica bilunzio si fai vieni da botte aspettavo la mano via ps5 va a fare ancora che ne sbattiamo qualità arrivata perché tanto il top delle prestazioni e soluzione partiamo giocano iniziano la partita ragazze iniziamo insieme avevo dico insieme in esclusiva super da channel partiamo direi come abbiamo giocato un subnautica normale di mettere in sopravvivenza e giocarcela come al solito che c'è te che stai rompendo le palline e mi voglio giocare io voglio giocare voglio giocare voglio giocare ciao sape voglio giocare e mi trasfositi devo continuare questo è il più che potrei portarti a te per la company space box robin sei sicuro che vuoi questo? la ricerca è in tutto è per me e Sam, bisogna sapere cosa è successo il meteor storm, posso usare il gatto ecco, mi raccomando, posso mi raccomando, posso esperienze nuove che cazzo ci vengo attenzione, attenzione, attenzione scapportizzano aree 46pu verificagli a livello stagetto a popolo si uso Sione Siamo a me Sì, ci è rimasto male Che ho scoperto dopo che eravamo una femmina Io odio femmina quando gioco Cioè almeno dammi la possibilità di scegliere Veramente Posso? No, allora vedo che come ho niente Benvenuti un cazzo C'è I tassi che sono gli stessi Guarda che bello C'è una 200 metri C'è qualcosa di là, raga Devo correre di qua, mi sa Gatto, stante vuoi giudicare con le mani In questo modo Deve andare in una capsula di emergenza Eh sì, perché siamo sulla terra Firmano in un drone, andiamo in acqua Che cosa sono questi fiori? Maledizione Oh, eh sì, perché mi insasci Non è una temperatura ma di brutto Non è una capsula di emergenza Ok, temperatura risale Ok, va bene Un attimo Fai mangiare la barretta Così siamo più tranquilli Guarda la mia piccola La mia piccola e bellissima Capsula di emergenza Oh Ma com'è English? Aspetta un attimo dentro Entra nella base Entra nella base È uno per uno Ho trovato la capsula di emergenza C'è il fabbricatore E qua torniamo Alla fabbricazione Le nostre materie All'effetto Madonna, ogni messaggio Mi ha inviato Sam Ah, non mi ha fatto il lavoro Andrò a squadra Che questa è nostra sorella Se non mi sbaglio Sam è nostra sorella Sì, ragazzi È una cosa da prendersi Con i piedi di piombo Su un'autica Perché bisogna ascoltare la storia Bisogna capirla Tutto Tutto Non c'è cosa A prendere con calma C'è cosa A prendere con calma Single player Quindi non c'è l'ansia Allora, potrei migliorare Chiedere la cosa Puoi prenderti cura Insomma, via Bisogna lasciare la mia piccola patata Qualcuno è più finito Una patata Sentimi dispiace Ci provo C'è una piccola Ok 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 4546B Robyn Come in Robyn Remind quando Usavamo giocare Old timey Space Explorer Questo è un nuovo nome Ma è ancora più difficile Comunicare Beh, vediamo Vediamo Ho il tuo ultimo messaggio Altera Non è come tu Poi Questo è un nuovo nome Altera Allora, cosa si va bene Il mio progetto ha un nuovo nome Dio Dio A 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 Mi sembra che sia ancora tenessi impegnato a fare un work. Adesso, è stato appassato per il vicenzialino. Adesso. Io vado a primavera, vado a primavera, vado a primavera. Ti voglio bene, c'è stata un'altra. Pubblici radio. Perchè tu che non mi dai questi titoli anche con del pubblici radio? Se potremmo leggere in due. Torre radio, non troviamo una torre radio allora perché... Sostanzialmente. E' successo qualcosa. Il gioco mi stoccherò una strana e ci siamo buttati qua dentro. Perchè cerchiamo la sua sorella? Che c'è solo qualcosa, ci ha detto che è morto sostanzialmente. Sopravvivenza. Prima di rompere le palle, scusatemi. Vi faccio vedere cosa c'ho di rompere le palle. C'ho in mezzo questa cosa che continua a mordere in tutte le circostanze possibili. Stai fermo, che cortesia. Guarda. Cioè non sta... Non sta... Non sta... Stai un attimo fermo. Stai un attimo fermo. Mi molli, mi lasci giocare. Perchè per muovere le dita qui si mette a... A mordere. Mannaggia a te, mannaggia. Te, 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 niente. Non c'è niente da fare. Cioè vuole... Vuole... Vuole mangiare le dita. Ah, ecco i bacini. Adesso dammi i bacini. Mi fatti vedere che hai dei bacini. Qui ti fa vedere un proprio gattino. A posto. Adesso vieni giù e torno. Ecco, punto. Si è aggrappato. Come faccio così? Lo dici? No, no. Il microfono no. Aiuto. Aiuto. No, il microfono non è... Non è da colpire. Il microfono no. Satana! Esorcizza questo corpo! Sopravvivenza. Annuario di sopravvivenza dell'archivio. Di sopravvivenza di sopravvivenza. Interazionalmente sicuro. Offrire un primo soccorso di necessario. Recuperare le scuole delle varie se possibile. Ispezione nella zona in cerca di minacce e risorse. Trovare e costruire un abito sicuro. Costruire l'occupamento di sopravvivenza necessario. Utilizzando i fabbricatori dell'habitat. Individuare altre supeciti a vista o utilizzando la radio. Preservare la salute fisica e psicologica fino all'arrivo dei soccorsi. Eh, sì. Annuario di sopravvivenza. Gli eventuali esplorati per i visi climi freddi sono invitati a prendere precauzioni aggiuntive. Eventi forti possono causare un rapido sopraggiungimento dell'ipotermia. Tieni sempre d'occhio ai tuoi rifugi naturali o fonti di calore. Indossa una tuta PAO standard. È possibile ripararsi la freddo estremo dentro gli specchi d'acqua. Gli imprevisti sono sempre inaguato. Non puoi mai sapere per quanto tempo sei lontano dalla tua base. Ricordati un pranzo, una bevanda, caldo, se possibile. È tutto bloccato. Eh, non possiamo mai ripetere abbastanza. Eh, copriti. Una tuta antigelata di qualità sarà sempre ricomplettata ai termini di calore. Ricordati. Se hai in dubbio, non uscire. Giustamente. Ricordati alcuni strumenti e risorse prima di iniziare la mia scelta. Spero che la radio tower sia facile. Come ha detto Lil. Eh, sì. Usciamo. Andiamo a cercare le prime risorse. No. Comunque c'è, ha fatto il lavoro di... A parte la mia faccia si vede di un blu intensissimo. Ma ha fatto il lavoro veramente bellissimo. Buongiorno. Eh, mi piace questo posto della freddo. Anche se è utile, diciamo, per uno che non sa giocare. Un pesce che non è contaminato come nell'altro che c'era la paura di... Degli pesci contaminati. Pura questo, esatto. Ok. Un nuovo progetto sintetizzato che è più strada. Un po' di... Questo cos'è? Il cristallo sale? Un quarzo. Hai bisogno del sale per fare il pesce seccato. Però qua è una zona ricca, eh. Oddio, c'è il fotteoggetti. Quello è il fotteoggetti. Cioè, sostanzialmente ti ruba le cose che c'è in mano, così mi non si è visto nell'ultimo. Questo? Eh, però mi serve sti cazzi, mi serve... Devo fare il coso. Aspetta un attimo, adesso cogliamo ancora due cose. Questa. Ok. Quanto è grande l'inventario? Ah, l'inventario è enorme. Ok, possiamo procedere alla raccolta. Compulsiva ancora per un pochino. Il problema è l'ossigeno. Eh, l'ossigeno. Eh, inizialmente senza tutte le bombole potenziate... I vari... I vari mezzi! Se non hai i vari mezzi, all'inizio dell'ossigeno purtroppo dobbiamo cavarcela. Così. Torniamo verso casa base. Vada lì col pannellino solare, TH. L'ingresso non è di qua, l'ingresso non è neanche di qua. Ma... Spero che abbiano un attimino curato meglio il discorso... ...chiere personale. E' un po' nervoso per rinforzare in un'area non rinforzata. Ma, fortunatamente, questo biome sembra avere abbondanza di minerali con costruire strumenti e potenziamenti. Ma sono... Almeno... Ah, sì, direi... Io che l'ho fatto! Era un po' altra cosa. Sì, direi, direi che non ero... Certo, portatamente questo ambiente sembra avere un'abbondanza di minerali con costruire strumenti e potenziamenti. Voglio evitare un'altra espressione come quella su Bizantos 5, non so. Non c'era quasi... Solo se doveva Xenowork mi ha lasciata. Quindi, allora, noi lavoriamo per la Xenoworks. E la Terra, diciamo, dovrebbe essere quel che sto capendo, quel che deduco da come parla, dovrebbe essere la nostra, la controparte. Il nostro... il nostro nemico. Non c'erano quali... Sono vissuto per tre mesi solo grazie al mio coltello, una corda, un PDA preferito. Devo ammettere... Non era il filo, però. Ok, potecazzi, il fabbricatore. Allora, fiammi tutti, ma dobbiamo innanzitutto fabbricarci strumenti. Anche come siliconica, addirittura. E la batteria qua ci chiede, fiammi tutti, allora. Allora, per... Torcia... Direi innanzitutto di iniziare da questa, la batteria ci serve, fiammi tutti, o la ci serve. Allora, un po' di ossigeno... Scanner... Battitegno ce l'abbiamo o la batteria? Piantanastro. Che cazzo succede? Minchia, un temporale... Madonna, no... Sto scherzando? Minchia, sembrava... Cadesse... Cadesse giù il mondo. Sì, no, io mi stai sott'acqua davanti a questo temporale. Secondo me, guarda, non sono queste piante... Andiamo un attimo. In esplorazione. Il titanio... Il titanio è una cosa che ci uscirà fuori dall'orecchio a un certo punto. Allora, questa... Sì... Ok, aspetta... Piantanastro l'ho presa... I semi qua... Non possiamo, eh... Abbiamo sperato, la speranza è l'ultima a morire. Dove fare anche il sea glide. Eccolo qua, le piante nastro e la batteria... Va di batteria... Giustamente... No, le piante nastro... Eh... Dovevo fare... A parte lo scanner... Sì, no, lo scanner... Facciamo lo scanner così... Andiamo anche a vedere un attimino... È il problema che però non ho batteria. Ma contenta? Sì, la gassica ha fatto uno scanner. Prima c'è una batteria nel titanio. Guarda, è il tuo scanner... Un strumento che ho preso di ogni... Xenobiologo. Questa pianeta... Flora e Fauna... Aspetta un attimo, perché sto parlando... Io non mi riparai sopra. Ah, affascinante! Non vedo l'ora di saperne di più. E mi dà... E mi dà... E mi dà l'accesso anche... A strumenti migliori. Immagino che la terra abbia lasciato... Dei pezzi di tecnologia... Che potrò scannerizzare... Per ottenere progetti. Sicuramente mi renderà... La sopravvivenza... E l'esplorazione più semplice. Non preoccuparti, Sam. Sono qui per te. Non me ne sono dimenticato. Ma un po' di ricerca... Io sicuro non farà male. So che avresti fatto lo stesso. Scoprirò cosa ti è successo. Lo prometto. È sempre la mancanza... Una sorella ti fa sentire. Insomma... È un elemento... È un elemento importante. Cos'è? Come boomerang lo usiamo? No. Allora, abbiamo lo scanner. Attenzione. Oh, che beghi effetti di luce ragazzi. No, cioè... Rispetto a... Io spero che... C'è vabbè... Il movimento lasciamo... Lascia un po' desiderare... Ma... Vabbè... Dai... Partiamoci sopra. A posto. Andiamo dicendo. Dobbiamo costruire anche il coltellino. Lo scanner l'abbiamo fatto. Possiamo andare a... Gomma siliconica. A strappare delle piante... Per fare la gomma siliconica. Iniziamo a scaricare cose a caso proprio. Così che ci possono essere utili. Oxygen. Sì, ho capito. Ma non si può fare mezzo metro che... Devo scappare... Devo scappare... Devo scappare... Devo scappare... 3... 2... 1... Ciao gattino. Perché è tutto rossa? C'è una tempesta di fuoco adesso? Adesso è tipo l'alba. L'alba di un nuovo giorno. È la madonna! Mi si intensifica rapidamente. Aspetta che magari è una bomba nucleare e mi ritroffano sotto questo attacco. Buongiorno! 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 Niente, non mi vuole... Non mi vuole mollare la mano. Ah! Ecco dove ti viene nascosta. Aspetta, analizziamolo, va. E adesso usciamo anche di fretta. Oxygen. E questo, questo. Corri, 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 corri. Eh ragazzi, non so se ce la faccio. 3... 0... Sì! Devo trovare quelle cose rosse. Cosa ci può servire? Che possiamo fare? Qualcosa con la batteria sicura. Ah! Torcia! Che però non è che sia il massimo dell'utilità. Facciamo uno di vetro. Facciamo sta batteria. Sa, sta torcia. Una di vetro. Un attimo di... Di evolverci. Batteria. Torcia. Se sono i semi, forse, forse... Forse sono attaccati alla pianta. E io posso giustamente staccarli con le mani. Sì. Andiamo un attimino. In quel grappolo là. Sì. Eccoli. Attenzione. Aspetta un attimo che... Speriamo l'analizzo. Trovo un attimo in superficie. Recupero l'ossigeno. Ossigeno. Spero che... Passi. Sì. Sì. È attaccato alla gamba. Sta cercando di salire. Va malissimo. Mi stavo dicendo... Ehm... Qua. Eccoli qua. Eccoli qua. Dimmi che posso prenderli con la mano. Sì. Gentilissimo. Gentilissimo. Posso... No? Dovevo analizzarlo. Eh vabbè. Oh guarda. Ce ne va solo analizzare. Ne bemo eh. Analizzati? Grande mago eh. Adesso me ne vado perché so che ci sono quelli che mi fottono gli oggetti. Ossigeno. Mannaggia. Adesso devo vedere anche le tute. Come si. Guarda la mia luce. Adesso guarda anche le tute. Come si. Come si fanno. Allora sto dicendo. Visto che abbiamo. Facciamo un po' di gomma su. Posso fare anche luccicante. A me la gomma è sinicone. Devo fare. Il coltellino. E coltellino sia. Attrezziamolo. Ottimo coltellino. Abbiamo anche il coltellino. Grande mago. Ottimo mago ma siliconica. Mi serve io a fare le pinne. Vai di pinne normali. Andiamo. Potenziamoci. Facciamo qualche upgrade. Allora. Le pinne le ho già fatte. Mi serve la rete. Si. Andiamo con le coltelline. Direi. Si. Inizia a mancare lo spazio qua dentro eh. Vabbè. Comunque. Attualmente sopra qua. Anche di notte. Non ci serve assolutamente. Ecco la piantina. Ah eccolo qua. Aspetta guardalo. Viltiamolo. Ok. Ok. Ce ne facciamo una bella scorta così poi. No. Non c'è niente. Non c'è niente. No. No. Scherzavo. Mi stai seguendo o no eh. Oxygen. Si. 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 Vado su. Vado su. Vado su. Basta che qualcosa non mi riguarda niente. Le cose che mi sono sudato costruire dalle mie fonte. Vado. Allora. Facciamo quasi per un attimo. Non mi fido. Ehm. Ehm. Titania. Prendiamo del titanio. Il nostro piccolo contenitore di scorte. Ci facciamo anche la bombola. E' la bombola fatta. Cos'è? No. Un pochino più. L'ozumnia. Oh. Abbiamo un altro strumento che possiamo fare. Abbiamo un altro strumento che possiamo fare. Ecco. Ok. Questo cos'è? Che strumento per ripararsi i minchi? Mi serve lo zolfo. Il cristal. Ah no. Ah no. Questo non è una cosa. Non so se è lo stesso. Cioè. Se si può usare anche lo zolfo. Eh. Il problema è che non li ho ancora visti. Sai. Quelli che in sublinatico uscivano fuori come dei siluri. Poi c'era lo zolfo delle caverne. Che forse potevi anche usare come zolfo. Mi sembra. Ehm. Abbiamo un leggerissimo problemino di acqua però. Inizialmente. Cosa c'è? Cosa c'è? Vuoi le coccole? Vuoi un po' di attenzioni? Mi stai chiedendo le tue attenzioni? Eh? Dimmi. Vuoi le attenzioni? Guarda. Guarda in camera. Sì. Io voglio le attenzioni perché. Perché mi sento un gattino. Con carenza e d'affetto. Sì. Sì. Queste le dobbiamo. Diagnosi. Non so. Ma scusami. Ma sì. Devo fare la live. Tu non puoi stare tranquillo in un angolino. A giocare con i tuoi giocattoli. Eh? No? Non puoi. Che cosa sei? Un piccolo alien. Oh cara. Sono un piccolo alien. Sono un piccolo alien. Guarda in camera. Sì. Non abbiamo ancora esplorato un granché. Ragazzi. Ci stiamo sostanzialmente girando sotto la nostra posizione. Più che altro perché dobbiamo farci le prime cose per evolverci. Dobbiamo andare a cercare lo zulfo o delle caverne. Inizialmente quello delle caverne. Poi vediamo un attimino. Il progetto del Seaglide mi sa che ci manca però un pezzo. E spero di trovarlo qua in giro a qualche parte. Perché c'era. Ieri interrompono un attimo la raccolta di qualunque materiale perché se no non ci sta più. Ieri concentrarsi sullo zulfo e sul C e sull'acqua. Questo qua è acqua. Aspetta. Iniziamolo qua. Se ci siamo. Che cosa vuoi? Ieri. Non lo so che è sempre carino, però l'ho capito. So che... So che vuoi rubarmi quello che c'hoato. Quello che c'ho... T'ho visto. Scimmia marina. Eh! Questa scimmia marina potrebbe essere un danno per ogni per sua. Ricacere l'ossigeno? Questo ricarica l'ossilio Pianta l'ossilio Nooo Che bello Ah lo prendiamo così Si chiude, immagino che si debba ricaricare Chissà quanto ci mette Mi piace però qua, cambia colore Cioè è un nido Una pianta morta Ah un pezzo di sigla di sticazio Aspetta un attimo Ok, questo sembra Un nido Un nido di scimmio Esci in fretta da qua Da sto posto di Materia fecale Andiamo a casa che abbiamo finito di sbloccare Prendiamo un altro per lo sacco Prendiamo un altro per lo sacco Grazie ai sacchi Eh, torniamo a casa Facciamo invece un po' d'acqua Eeeh E vediamo che sarebbe il sigla I tabattevoli, noi già ce l'abbiamo Di te non ce l'abbiamo Come a sincronica ce l'abbiamo pure quella Un'ultima è tutto, credo eh Se non mi cos'è altrimenti cosa serve Però le basi principali ce le abbiamo Eccolo qua Sea Clyde Con questo andremo un attimo più veloce Allora il radar e il La luce Sea Clyde Is a personal transportation device Used for high speed free diving Contains a built in light and map Di mappe incluse Grande Proviamolo Wow Anche la mappa qua L'ha un attimino sistema Tende Il movimento ci inchiappetta un po' Attiva disattiva luci Attiva disattiva mappa Ok l'ha cambiato Ah ok Funzionano i tasti disattivi Non so perché si è buttato Funzionano i tasti disattivi Ottimo Bene gamers direi che per questa live è tutto Vi abbiamo dato una prima occhiata Su un'autica polizia Direi che graficamente qualche passettino avanti l'hanno fatto Ecco non è sì che ha miglioramenti però Gli effetti di luce ci sono I caricamenti delle mappe ci sono Cose che su un'autica 1 erano molto forzate Adesso voglio anche vedere la La seconda parte di un'autica Cioè l'aggiornamento che hanno fatto su un'autica 1 Voglio vedere cosa hanno combinato insomma Bene gamers direi che ci becchiamo alla prossima live Mi raccomando condividete Assolutamente Like Commentate Insomma fate un po' quello che vi pare Una buonanotte perché è una Buona continuazione se invece siete ancora attaccati alla playstation Grazie a tutti Grazie a tutti